Ciao amici di Italia Top Games, buon inizio di settimana, lunedì 13 gennaio e siamo qui per vedere gli aggiornamenti di PES. Per una volta, per una volta, vi mostro i miei risultati, perché? Perché spesso non c'è niente da mostrare, non sono questo giocatore fenomenale, tutt'altro. Però, da giovedì, dopo un periodo di inattività da PES, ho pescato Cristiano Ronaldo, come dovreste sapere, e mi si è un po' svoltata la stagione. Sono aumentato in valutazione a 726, e quest'anno non avevo mai raggiunto quota 700. E ho fatto anche 9 vittorie consecutive. In realtà, ho preso Cristiano Ronaldo, la prima l'ho persa, e vabbè. Poi ho fatto 9 vittorie consecutive, con giocatori che vanno dai 500 ai 1000, battuti tutti. La decima, la decima l'ho pareggiata 4-4, con un match dei Juve-Scalche, capitavano sempre squadre Juve. 4-4, Ronaldo mi sbaglia all'85esimo, un gol facilissimo, ma dopo una quadrupletta non mi posso lamentare. E quindi, niente, diciamo che gli ultimi giorni sono stati molto, molto divertenti. In PES 2020, e queste 9 vittorie consecutive, sono state davvero entusiasmanti. Peccato per la decima, ma non importa. Allora, veniamo ai... ah, vi faccio vedere un attimo come è cambiata leggermente la squadra. Cristiano Ronaldo è qui. Zilischi come CC, e non come CLS. Bernardo Silva ha giocato per far rifiatare Le Bruyne, ma lui è il titolare. Milinkovic, Savic, o appunto Bernardo Silva, sta qui in CC, quando ho fatto il match day con la Juve, con squadre personalizzate. Ho messo Quadrado, che è a 89, ma con freccia su è davvero niente male. Dove è andato a finire Quadrado? Tutto tu, 89, non mi ritrovo più Quadrado, che fine ha fatto? Eccolo, eccolo, stavi in panchina. Eccolo qui. Pogba, Pjanic, che ha valutazione B, l'ho messo come MED e mi rende tantissimo. Digno è rimasto il mio titolare, salita a 91. Delicto e Pichet in difesa. Monnier a terzino destro. E come portiere, assolutamente Courtois, come A, ha fatto davvero paura, superando nettamente le prestazioni sia di Alisson che di Lafonte. Adesso non so perché sia A o meno. Comunque, davvero un'ottima settimana. E oltre a Ronaldo, anche a lui devo molto per queste nove vittorie consecutive. In panchina c'è Milinkovic, Savic, che si è alternato con Pogba, Vidal, che mi gioca un po' dappertutto, davvero giocatore molto utile. E poi anche Romagnoli, B, come valutazione, niente male, anche se preferisco ancora Pichet a 95. Allora, fatto vedere tutto questo, vediamo alle novità di oggi. Intanto andiamo subito a pescare il regalo di oggi. Anche questa settimana altri regali ancora da PES. Questa è l'ultima settimana di regali. Sta a, almeno che non ci siano sorprese, prendo osservatore 5 stelle della Juve. E poi andiamo a vedere gli agenti che, come vi avevo un po' anticipato, non presentano chissà quali grandi novità. Intanto andiamo al pool da collezione. 300 giocatori, profilo, 30 nere, 90 oro, 180 argento. Il solito, no, non voglio prendere niente, voglio vedere elenco dei Versailles. Eccole. E abbiamo, beh, eccedente, neanche un 90. Piani, Civerratti, Di Bala, Skriner, Di Maria, Dzeko, Tiago Silva, Scesni, Immobile, Marchinhos, Insigne, Icardi, Mico Incisavici, De Ligt, Matuidi. Beh, questo pool, devo dire, è molto deludente. Non ha leggende, niente, neanche giocatori della 90. E non vanno meglio le cose con l'elenco dei Versailles del Benfica, che anche qui, niente 90. Qui andiamo a massimo 88 con Ruben Dias, Pizzi 87, Rafa Silva 87, Blacodimos, portiere 87, comportamento Pizzi 97, d'accordo, ma sempre 87. Gabriele Pires 86, Alex Grimaldo 86, Seferovic 85, Andrea Almeida 85, e basta. Andiamo a vedere lo Sporting Lisbona, più o meno qui anche già vedete che quasi 37% d'oro. Allora, Bruno Fernandez, che ho già pescato due volte, già ho trasformato in SP tutte e due le, e in ESP tutte e due le volte. Ecco i dettagli. Acugna 87, Matteo 86, Quates 85, Quates non lo so, Luiz Felipe 85, Vietto 84, Renan Ribeiro 83, Don Bià 83, e basta. E poi ci sono ancora, per altri due giorni, due giorni e 18 ore, quindi fino a giovedì, i giocatori scelti dalla community per la Ligan con Neymar, che ho sbagliato nel precedente video, ho detto che era la versione base. No, è la versione in evidenza comunque, mi sono confuso qui in questa schermata, infatti, però mi sembra l'altra volta non erano messi le valutazioni superiori, ma può essere che mi sono sbagliato io, assolutamente. Comunque il giocatore in evidenza non è il giocatore base, però quello che volevo intendere è che non c'è uno step 3, cioè secondo me questi giocatori speciali, con la carta speciale, devono avere una valutazione anche superiore a quando questi giocatori sono stati in evidenza. Comunque c'è Neymar, con Scelnide, Pai, Paiè, fino, si scende fino agli 82. Comunque, visto che oggi non c'ho niente da girare, ci facciamo un giro, magari, a pescare Neymar, chissà. Intanto, un po' di monetine ce l'ho, con questi regali di Konami, vediamo. Neymar mi piacerebbe molto, anche se una possibilità su 20 è bassissima. Infatti, non ho pescato Neymar, ho comunque pescato un pallone nero. Il giocatore del Marseille, il giocatore del Marseille era Paiè. Paiè, 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 vediamo che ruolo ha. Trequartista 88. Caro Paiè, mi dispiace, ma con Bernardo Silva e A, e soprattutto De Bruyne, non giocherai. Se qualcuno mi vuole convincere a non trasformarlo in ESP, scrivetemi, 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 perché non dovrei farlo. Io, altrimenti, sarei per trasformarlo in ESP. Ma non lo faccio, aspetto i vostri commenti. Vediamo, infine, le challenge, che dovrebbero essere le consuete, da un punto di vista dei premi. Coppa Challenge Online. Eccola, la League Challenge. 4 punti in 3 partite, GP 10.000, il solito. L'ultima volta non vi avevo mostrato che hanno reintrodotto le introductory online. Queste sfide che regalano, tanto per cambiare i 10.000 GP. Comunque, a tanti di voi interessa questa cosa. Quindi, ecco, se volete farle, anche io, prima o poi le farò, ma preferisco i match classificati normali, quando devo fare partite singole. Poi c'è il World Wide Clubs, vince tutte e tre le partite, addirittura qui neanche 10.000, ma 5.000 GP. Però, questo è quanto. Beh, oggi decisamente non ci sono grandi pescate da fare. Però, c'è ancora, c'è ancora il... Ci sono ancora i giocatori della Liga, poi se qualcuno è così interessato alle due squadre portoghesi, ma ci credo poco. E vabbè, speriamo bene. Giovedì arrivano i nuovi giocatori in evidenza. Probabilmente ci sarà Immobile, probabilmente ci sarà di nuovo Cristiano Ronaldo. E poi staremo un po' a vedere. Vi ringrazio per l'attenzione. Aspetto i vostri commenti in massa. E buona giornata e buona settimana. Ciao!